Dal libro di Mormon 1 Nefi capitolo 5 E con espressioni di questo tipo mia madre si era lamentata con mio padre ed era avvenuto che mio padre gli aveva parlato dicendo So di essere un uomo che ha visioni, poiché se avessi veduto in visione le cose di Dio non avrei conosciuto la bontà di Dio ma sarei rimasto a Gerusalemme e sarei perito con i miei fratelli Ma ecco io ho ottenuto una terra di promessa, di tutte queste cose io veramente gioisco Sì, e io so che il Signore libererà i miei figli dalle mani di Rabbano e li porterà di nuovo da noi giù nel deserto Ed è con queste parole che mio padre e lei consolò mia madre e Saria a nostro riguardo Mentre noi viaggiavamo nell'eserto salendo alla terra di Gerusalemme per ottenere gli annali dei giudei E quando fumo tornati alla tenda di mio padre, ecco la loro gioia fu completa e mia madre fu consolata Ed ella parlò dicendo Ora so con certezza che il Signore ha comandato a mio manito di fuggire nel deserto Sì, e so pure con certezza che il Signore ha protetto i miei figli e li ha liberati dalle mani di Rabbano E ha dato loro il potere mediante il quale potessero compiere ciò che il Signore ha loro comandato E in questo modo si esprimeva E avvenne che essi gioirono grandemente e offrirono un sacrificio e dei olocausti al Signore E resero grazie al Dio di Israele E dopo che ebbero reso ringraziamento al Dio di Israele Mio padre e lei prese gli annali che erano incisi sulle tavole di bronzo E li esaminò dall'inizio E vide che essi contenevano i cinque libri di Mosè Che davano un racconto della creazione del mondo e anche di Adamo ed Eva Che furono i nostri primi genitori E anche una storia dei giudei dal principio fino all'inizio del regno di Sedechia, re di Giuda E anche le profezie dei santi profeti dal principio fino alla fine del regno di Sedechia E anche molte profezie che erano state fatte per bocca di Geremia E avvenne che mio padre, lei, trovò pure sulle tavole di bronzo una genealogia dei suoi padri Pertanto apprese di essere un discendente di Giuseppe Sì, proprio quel Giuseppe che era figlio di Giacobbe Che fu venduto in Egitto e che fu preservato dalla mano del Signore Perché potesse preservare suo padre, Giacobbe e tutte Riguardo la casa dalla morte per carestia E furono pure scondotti fuori dalla schiavitù e dalla terra d'Egitto Da quello stesso Dio che li aveva preservati E così mio padre e lei scoprì la genealogia dei suoi padri E anche Labano era un discendente di Giuseppe Pertanto lui e i suoi padri avevano tenuto gli annali Ed ora, quando mio padre vide tutte queste cose Fu riempito dallo spirito E cominciò a profetizzare riguardo la sua posterità Che queste tavole di bronzo sarebbero andate A tutte le nazioni, tribù, lingue, popoli Che erano della sua posterità Pertanto disse che queste tavole di bronzo Non sarebbero state mai distrutte Né sarebbero state mai logorate dal tempo Ed egli profetizzò molte cose riguardo la sua posterità E avvenne che fino ad allora Io e mio padre avevamo obbedito ai comandamenti Che il Signore ci aveva dato Avevamo ottenuto gli annali che il Signore ci aveva comandato E li avevamo esaminati e trovato Che c'erano indispensabili Sì, proprio di grandissimo valore per noi Tanto che avremmo potuto preservare i comandamenti del Signore Per i nostri figlioli Pertanto era nella saggezza del Signore Che li portassimo con noi Nel nostro viaggio, nel deserto, verso la terra promessa